maestri maestri buongiorno buongiorno ma voi state salutando tipo presidente della rubrica ciao grazie io sto qua non so se tu puoi mettere qui mi fai entrando il posto tuo però poi ci giriamo ci invertiamo arrocchiamo ah perchè ben trovati siete a teatro ora ci raccontate Will Survive voi l'avete mai pensato nella vostra vita ascoltando Gloria Gaynor che è proprio una canzone iconica meravigliosa è una costanza è una costante e sopravviverò visti i tempi poi esatto però sentimentalmente pur accade e quindi dalle cose sentimentalmente lascia perdere perché? ha detto lascia perdere quanto tempo, quanto dura appunto io la lascerai perdere una cosetta si può dire sempre vuoi dire una cosetta? no io su questo argomento anche io ma la Nella c'è va l'anello se l'ha ma no Jessica sei tipo investigatore privato ma non ho capito che c'entra ce l'ho pure io e infatti sei fidanzato? no sei fidanzato? io sono fidanzato? no ah ok no ho l'anello ho l'anello non è un anello in realtà è una corona del rosario ah allora ok va bene mi sono fidanzato con la Madonna no non sono ironico eh no no ma per carità è una corona del rosario beh basta chiuso il capito chiuso il capito che vista che ha lei non lo vedo io da qui figurati però anche tu hai l'anello io sono fidanzata è fidanzata? l'abbiamo sistemata voi non sapete ma ci sono state delle puntate precedenti su Jessica è tornata a settembre con l'idea evento che era fidanzata ci siamo tutti messi sicuri però insomma diciamo che si guarda sempre in giro in modo platonico per puro spirito di osservazione allora io direi che possiamo cominciare con un vostro assaggino ad uno dei vostri sketch? nostro? da qui fatto adesso? no ma che ma non di chiedere se lo facevamo buongiorno contento di vedervi? sì guardi sono veramente ho gli occhi che si rubano le idioterie tra di loro oggi non dovevo venire ma pensi un po' veramente però dall'altra parte della città perché non c'è rimasto? sono andato a far la spesa bene capisco ho comprato lo yogurt bravo perché a me piace lo yogurt però prima di mangiarlo lo tiro tre quattro volte contro il muro perché mi dà fastidio i fermenti lattici vivi almeno rimambirli li porta così a suo livello e ci riesce a comunicare almeno tutto ragionamento e cosa ha fatto di bello oggi? oggi di bello niente sono andato a lavare la macchina la sua? no una a caso io faccio volontariato negli autolavaggi faccio parte di un'associazione Onlus il nostro motto è lava una panda anche tu il martedì mattina in tutti gli autolavaggi d'Italia brava lavati i panda perché si stanno estinguendo è rimasto guardi un 4x4 la lattina adesso sabato prossimo la facciamo accoppiare con una ritmo del 78 e vediamo cosa è stata puntiamo al librido noi e una volta lavata cosa fate? le asciughiamo le asciughate con la pelle di daino? no col daino vivo noi le asciughiamo perché siamo anche ambientalisti e ecologisti servono due daini uno a destra e uno a sinistra la panda sta in mezzo la macchina adesso facciamo un esempio proprio a distanza di fiancata fai prima retro e la macchina viene asciutta che sembra appena uscita nuova dalla fabbrica ma è daino che si pressa a dare una mano al panda? lo fa volontariamente o prima va convinto? prima va convinto perché all'inizio il daino non vuole e poi dai no dai no dai no dai no la bestia si convince hai visto? ormai non capiamo più quando siamo nella vita e quando parliamo per frasi della vita e quando parliamo per frasi di scritto è un secondo entrare e uscire è solo il suo problema io so quando sto facendo una cosa o l'altra è un entrare e uscire tra tutto ormai dopo 27 anni abbiamo così tante frasi nella testa 27 anni ormai ci sono le parole che ti sbloccano e parti perché hai delle cose legate a cose scritte e tutto questo alleggerisce la vostra quotidianità o la appesantisce? cioè hai il Prozac che l'alleggerisce tanto tanto Prozac c'è un antidepressivo oltre al calendario hai fatto una bellissima domanda nel senso perché è vero cioè a volte il nostro lavoro anche magari in momenti in cui come tutti può capitare insomma meno meno piacevoli della vita abbiamo la fortuna che questo lavoro comunque ti alleggerisce perché sai che c'è questa leggenda no? che i comici in realtà sono persone tristissime però sì sì lui ha finito di piangere in taxi lui ha smesso eh lo sai che mi si è rotto il telefono se questo è vero si è allagato adesso no questo è vero e giuro non aveva questa è vera e non l'ho potuto entrare qui perché non avevo il è dovuto andare in farmacia a stappare il Green Pass non ci posso vedere però dai vedi fedelissimi te gerrimi ho detto mi faranno entrare no ma hai detto guardi c'è una farmacia fuori là anche io gli ho detto se non hai Green Pass non gli sto vicino senti ma dove è il telefono adesso? è giù in reanimazione volevo vederlo sfrittellato no hai detto si è fatto una riga blu ah ho capito quella cosa che tu lo guardi e dici perché è molto bello da vedere però non va non va veramente ti viene da piangere però perché tu hai oramai quello è un oggetto transizionale sta lì è un pezzo di te capito quindi lo vedi con la riga blu no ma poi ho dentro un sacco di dati ma la fai il backup lo fai il backup stai su cloud la cosa drammatica anche l'indirizzo di dove deve andare e deve soggiornarci per due settimane perché siamo a Parioli e non sa dov'è no lo recupero io subito comincio con l'efficienza mia tipica adesso cominciamo il tuo telefono lo sai a memoria il mio sì ma lo già non so neanche il suo a memoria quindi non posso neanche chiamarlo prendiamo fiato e vi vediamo in diciamo non live ma cos'è questo primo sketch aspetta vediamo se ce l'ho scritto così lo annuncio bene mix è un mix è un mix fritto misto vai hai saputo di Julian non mi fa sentire e l'ho chiamato io ma è contento di vedermi? guardi come vedere Bill Laden al banco all'Italia ma ti guarda un po' ma io 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 non pensavo di trovarla eh bastava stare a casa eh bastava stare a casa sono uscito ho fatto quattro passi e l'ho trovata eh sono arrivato puntuale eh eh spacco il minuto e non solo diciamo che provo dolore quando ah quando ispiro allora non ispiri ma scusi ma se non ispiro muoio d'altro Piero Angela di qualcosa bisogna pur morire se ne faccio una ragione senta uno se se li va a cercare muore anche di calci in c***o lo sa sì ma devono essere forti molto forti il mio Mattia lo chiamano l'alpacino della simulazione una volta l'arbitro non sapeva se dargli il cartellino rosso o il devito di Donatello abbassando quella leva il suo amico verrà trasmessa una scarica di 10.000 volt la abbasserebbe per 10.000.000 senta ma chi è lei chi la fa entrare qui da che parte è entrato mi dia nome e cognome chi è 100.000.000 senta io un po' sono stanco di lei capito sono proprio stanco io le spacco la faccia io se non se ne va un miliardo allora va bene l'ha voluto lei ok arriviamo alle mani non ci sono mai arrivato va bene io le spacco le spacco la testa ha capito io le spacco la testa 27 anni insieme adesso con una certa emozione da domani sera fino al 26 febbraio sarete a Roma al teatro Parioli dico come per una certa emozione ma hai fatto ridere con una certa non con un'emozione con una certa emozione è preciso è bello con una certa emozione ho un eloquio è bello mi piace perché è molto specifico effettivamente è una certa emozione una certa emozione non è né esagerata né modesta no? l'ho letto nel vostro comunicato stampa e credo che sia comune a tutti noi quando torniamo a teatro dopo la pandemia no? in questi mesi quando abbiamo ricominciato a frequentare quei luoghi meravigliosi che sono cinema teatri e stare di concerti siamo tutti un po' emozionati lo spettacolo si chiama Comincium ogni lettera ha una canzone e 27 anni fa vi siete conosciuti è stato amore a prima vista? sì, sì poi non c'erano i cellulari quindi lo apprezzavo un giorno lo romperai gli ho detto proprio quello un giorno tu comprerai un cellulare non esistevano ancora e lo romperai fuori dalla RAI no, no ci siamo conosciuti in questa scuola di teatro e collaborando lì ci siamo subito diciamo innamorati artisticamente ovviamente e c'era bisogno di dirlo c'era bisogno di dirla sta cosa no, vabbè non si sa mai l'ho voluto specificare come una certa precisione che viviamo in due case separate ma avete mai fatto vacanze insieme? sì sì ci è capitato quindi siete anche amici? agli inizi con le prime mogli esatto la prima moglie avevamo fatto quante ne sono succedute le mogli? si parla di terzine qui terzo giro? più o meno sì tu hai figli no? io sì, tre figli sì, però li ho fatti io tu no li ho fatti te no, si è andati una mano li ha tirati grandi lui ma c'è cazzo di aiutarci no? è vero? sì, sì quando si può lui li ha tirati grandi io l'ho fatto e lui esatto tre figli sì, sì maschi, femmine maschi i due grandi Giacomo e Filippo faccio gli auguri che questi giorni fanno gli anni tutti e due che vuol dire questi giorni fanno gli altri tutti e due? Filippo gli ha fatti il 13 Giacomo gli fa il 18 quindi facciamo una cosa economica gli fa il 18 quindi insomma più o meno in una settimana due compiono gli anni entrambi e poi Penelope che era piccolina di quasi 11 anni Penelope è un nome molto bello Franz ma invece tu cosa ricordi di quel primo momento quel primo incontro non ricorda io me lo ricordo si ricorda quello che ha fatto oggi non si ricorda è vero io ricordo poche cose sai meglio guarda si vive meglio sto ricordando poco pochissimo no ricordo di lui nel primo una volta in uno dei primi locali che era il caffè teatro dove lavoravamo mi ricordo che sono entrato e c'era lui che aveva già una capigliatura strana aveva una capigliatura adesso è strana ai tempi era bizzarra ed era appoggiato mi ricordo a un bancone aveva una sigaretta e faceva così e dentro me mi sono messo che bella tranquillità che bella serratina era proprio aveva bevuto una volta aveva bevuto 12 caffè doppi gli è venuta l'attacchicardia prima di uno spettacolo 12 caffè doppi no no che 12 doppi ma aveva bevuto 12 al premio un gotognato si lì aveva bevuto i tanti no ne hai bevuti e perché? e perché così perché volevo stare svegli oggi no oggi sono tra 4 5 5 5 doppi no ma va bevuto tanti caffè prende solo il caffè doppio bevo solo il caffè quindi anche l'acqua comunque c'è una cosa che mi dovete spiegare perché voi avete diciamo un'assonanza con quella che è la tradizione della comicità milanese qui l'amico Remigi diciamo è il baluardo non della comicità ma anche se delle volte si cimenta ma della tradizione milanese mi spiegate perché Milano che è una città votata all'efficienza e comunque a rigore c'è appunto il cosiddetto rito ambrosiano nel senso di proprio di c'è scritto un libro mi sembra Maroni il sorrido ambrosiano c'è proprio l'efficienza e il rigore e il non perder tempo poi nella comicità va verso il non senso verso la follia è un modo per uscire fuori dalla rigidità per me è una domanda troppo difficile ma io ma guarda Memo lo sa lo sa forse meglio di noi nel senso che è nata un po' negli anni 50 negli anni 60 quando appunto c'era gente seria che suonava e arrivava il balordo il comico che rompeva un po' quell'atmosfera e perché sono i calemburi da Rio Fo e non solo ma poi gli annacci i gabber con la musica ha sempre avuto affinità e quindi è stato un elemento la comicità è stata un elemento di rottura in quegli anni e da lì c'era un grosso fermento artistico anche quando ci raccontava Renato Pozzetto appunto dicevamo quattro disperati lì in queste trattorie eravamo noi c'era Lucio Fontana che dipengeva che faceva i tagli e quindi insomma c'era un gran fermento artistico in quegli anni lì però è curioso è curioso pensarvi forse come una reazione diciamo forse all'efficienza quando devo ridere rido nel modo più pazzo possibile a me piace pensarla così Pippo Kennedy Show dai vediamo un'altra clipettina adoro anch'io no a casa solto io non ci torno più a casa con questo qui io neanche lo conosco con questo qui io non ci torno a casa ma come non siete fratelli che fratelli che fratelli ma io questo qui non so neanche chi è ma scusa è da quando sono nato che me lo trovo che mi gira intorno chiama papà mio papà mamma la mia mano ma scusa un attimo ma ci hanno mai presentato cosa vuoi cosa vuoi no io non ci vado a casa con questo qui non ci vado ma scusa ma non ho capito ma dove vivete voi in un ascensore un ascensore un ascensore un ascensore quelli che vanno su quelli che vanno giù io sono di claustro sto chiuso in un ascensore impazzisco perché ho paura uso le scale respirate respirate piano guarda come mi tremano le mani guarda guarda te ne tremano una sola perché l'altra è già smenuta ma sei tranquillo calmi calmi salutiamo Serena Dandini con la quale anche io ho lavorato da assistente a programmi addirittura quando c'era Avanzi e cosa ricordate di quella stagione ma ricordiamo tante cose perché ricordiamo che quando siamo arrivati alla RAI di Napoli il nostro debutto nella RAI si sono aperti i cancelli e ci hanno fermato e ci hanno controllato le valigie ci hanno tenuto lì un'ora perché? e che ne so passavano tutti e io lui ci hanno detto venite e ci hanno portato dietro e ci hanno aperto la valigia ci hanno controllato probabilmente non avevamo sembrava la dogana di Dubai sembrava senti vi è mai capitato perché anni di cabaret no appunto questi te l'ate Zelig ovviamente ma prima vi è mai capitato di andare sul palco e che la gente non ridesse? e come avete reagito? allora c'è capitato no quello per fortuna in modo drammatico mai però può capitare può capitare e se capita uno che fa? cambia lavoro uno si chiede perché innanzitutto si chiede come mai eravamo in questo locale che è a Bianca che è un locale appunto a Milano erano i primi tempi facciamo questo spettacolo e noi era già da un po' di mesi che lo frequentavamo e ci lavoravamo e finiamo lo spettacolo si sentiva ridere ogni tanto poi a macchia di lo parlo ma pochissima gente c'erano un centinaio di persone scendiamo abbastanza terrorizzati delusi e andiamo dal proprietario da Rudy si chiama Rudy e gli diciamo scusa guarda ci rispia no no ma che scusa è andata benissimo ma sono tutti francesi non ti preoccupare non lo capivano e invece vi è mai capitato di ridere voi così tanto da non riuscire ad andare avanti sì sì ci è capitato Fibo? beh ci capita ci capita spesso soprattutto in momenti di stanchezza sai quando c'è la proprio la ridarola quella folle sì 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 che ridi anche troppo magari ridi perché poi noi facendolo tutte le serie ci basta magari una virgola una cosa diversa ci parte una ridarola tra di noi poi avendo i musicisti sti qui capace che li senti anche ridere dietro loro partono a ridere per i fatti loro perché noi magari ci siamo impappinati da qualche parte loro partono ti vengono a ridere un contagio però sì insomma è un lavoro dove bisogna divertirsi noi siamo l'unico lavoro dove la gente è contenta quando sbagliamo perché se lo fa un chirurgo e beh tu puoi fare due ore di spettacolo perfetto poi ci si rompe un microfono e dicono sì però quel due minuti lì guarda sì ma lì si era rotto sì no ma lì guarda proprio lì proprio ho riso tanto ma com'è riso tanto abbiamo scritto due ore di roba e hai riso in un minuto e mezzo qui si è rotto il microfono di uno dei due però sì è bello questo siamo l'unico lavoro che e poi mi sembra di capire che avete una capacità di improvvisazione sublime anche tu ce l'abbiamo tutti tutti dai la vita ci porta a improvvisare un peso la cosa più strana che avete improvvisato nella vita la cosa più strana matrimonio direi abbiamo improvvisato molto male tra l'altro la stiamo scherzando la buttiamo su ridere ma in realtà vabbè io non so nulla della tua vita privata no quasi nulla però insomma chiunque sia al vostro fianco dai che passa dai siccome oggi è San Faustino oggi è San Faustino allora noi abbiamo una serie di cose su San Faustino quindi poi attenzione una serie di sorprese la prima cosa che vorrei capire però da Samuel perché non ho capito cosa mi deve far vedere voi dovete sapere che voi diciamo avete una comicità cosiddetta demenziale che per me è il miglior dei complimenti che si possa fare ma qua siamo diciamo semplicemente dementi quindi la verità lei ride noi siamo contentissimi fieramente dementi allora io non ho capito cosa vuoi fare tu oggi Samuel che è l'unica persona seria lui fa il ballerino ballando lui è lo stranago di servizio pubblico perché lui sta cercando di insegnare diciamo a loro e insomma anche a casa chiunque vuole io prima di venire qua avevo un'immagine seria da quando ho iniziato a venire qua ho conosciuto lei e cambia tutto allora cosa ci devi far vedere su San Faustino può partire una musica ma aiutate siccome ieri era la giornata di innamorati e gli innamorati quando andavano fuori nel locale ballavano in coppia mentre invece San Faustino ma non so ricorderete anche voi andavate subito fuori in coppia o andavate da soli a ballare ma quando? ma quando quando? ieri ai tempi ai tempi beati tempi ti portavi l'amico da gna in discoteca cioè tipo entriamo in discoteca si passa la musica tu sei da solo in discoteca nell'angolo all'angolo però giustamente inizia a ballare ok poi Mari se passa vicino qualcuno cioè tipo ti passava una ragazza di fianco che tu sei in discoteca per ballare Mari per conoscere ma ti infastidivi e quindi vedi ma che è? ma non si fa ma non ti piaccio? ti interessa? ma dove vai? ma dove va? che poi vi ricordate vi ricordate c'era questa prima questa prova c'è ancora in cui c'è Woody Allen che a te si ha di abbordare ve lo ricordate che ballava così tenta di abbordare una ragazza in discoteca ci siamo avvicinate questi non ci hanno proprio ma non si fa ma i single sono così quando uno quindi sono single e Bonno rimane singola le single timidi va bene va bene no pensavo potessimo insomma Woody Allen si avvicinava lui a una bella ragazza un po' nuotando e le diceva questa frase tradotta in italiano le interessa la danza signorina e lei si gira e fa sparisci mostro e lui rimaneva single esatto va bene dai voi ci avete avuto a che fare con Woody Allen e qualcosa stavate lavorando in uno spettacolo di Woody Allen abbiamo iniziato iniziato con M che era Ombra e Nebbia la versione teatrale Marder e appunto ci siamo conosciuti sul palco con Woody Allen davvero e c'è la prima cosa ci siamo proprio conosciuti recitandolo e tutto torna e tutto torna e poi abbiamo citato i grandi maestri della comicità e voglio vedere Giannaci Gabber dai una fetta di limone che meraviglia voglio i tuoi palazzi non voglio le ricchette non voglio le carenze ti ricavate qua che non vedi che sei vecchio vedi che sei vecchia dimmi che vuoi dare ti dirò cosa c'è che desidero da te una fetta di limone una fetta di limone una fetta di limone una fetta di limone gente una fetta di limone una fetta di limone mette li avete conosciuti? si ma quanto erano avanti sarebbero avanti oggi a fare una cosa così vero a guardarla colpiscono oggi questi saranno anni 60 fine anni 60 ora te lo dico 1969 caspita eh sì mi ricordo perché avevo due anni mi ricordo che l'avevo vista a due anni vabbè dai si dice ah sì sono sempre una bomba a vederle io non ero ancora nato nel 60 sono del 71 quindi mancavano due anni mancavano due anni e loro già stavano suonando ma li porti bene comunque no li porto male io però è così insomma le storiche coppie di comici vediamole qualcuna avete molta voglia di imparare la scuola voi dovreste frequentare se poi volete solo divertirvi Cocchi e Renato possono spiegarvi come è scritto Brioche? croissant bravo chissà quanti milioni di stuzzicadenti lei ricava da questo tronco uno un milione no uno uno solo stuzzicadenti unico peso unico unico proprio uno soltanto uno ma lo sai perché io sono un tipo assolutamente calmo e tranquillo che non se la prende mai? eh perché io uso l'autocontrollo lunga bunga come dicono qui il self control come dicono gli inglesi infatti nessuno riesce mai a farmi arrabbiare nessuno riesce mai a farmi eccitare io sono un tipo assolutamente calmo e tranquillo per natura io faccio un salto all'assicurazione anzi per far presto vado con la macchina tra mezz'ora ritorno e ti riprometto guarda la macchina l'avrai nuova aspetta dove sono le chiavi della mia macchina grazie accostami chi è? che è successo? il dito è per forza tu metti le mani così si tengono le mani così io non lo so vorrei sapere dove devo dire accostami l'altro l'altro mi mano mi mano parla 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 forza sei tu con mettere la mano le mani le mani si tengono così fantastico che dire Totò e Peppino a Milano no io volevo un savoar per andare dove dobbiamo andare voi avete qualche avuto qualche riferimento a parte appunto la scuola minarese che abbiamo detto chi vi ha fatto più ridere da bambini tutti quelli che hai fatto vedere è un insieme di gioia stavo pensando anche che fortuna che abbiamo avuto crescere con questo fermento con tutta questa bella gente intorno e poi voi non avete cioè non c'è una spalla normalmente nelle coppie nelle coppie comiche c'è uno che fa la spalla e uno che fa il protagonista voi anche nello spettacolo che c'è al parioli non c'è siete sempre paritari giusto? ci alterniamo noi ma proprio ci alterniamo proprio all'interno anche magari dallo stesso dialogo c'è proprio un cambiamento un rovesciamento ci piace questa cosa potrebbe essere anche un segreto per la vita di coppia sentimentale visto che questo qua è un continuo training qui e visto che San Faustino il nostro ma ti sei tagliato i capelli che hanno letta? sì da qualche giorno sì ma ne sono accorta solo ora che persone orribile che sono ho festeggiato Catarina Caselli così un caschetto purtroppo sono una donna distratta liquizza vai andiamo pronti entra la scenografia Romina ci pensi tu? sì vai scatenati perché scatenati prima ci siamo scatenati io e Samuel al ballo adesso visto che oggi è San Faustino ah a lui fai le domande? no sa che lui è stato vi presento Cannoletta Massimo storico campione dell'eredità eh sì io e Ale mi ha fatto due chiacchiere pure? sì prima che vi ho rilassi ti nascosto a me io sono più sul ballo lo vedo vuoi ballare con Peronna? no lo vedevo lo seguivo perché sono più sul ballo guardo ma balli? no ho una mamma anziana che guardava allora stavo con mi piaceva tanto sabato sera guardare i balli no sono uno scoordinatissimo mi fa male anche un menisco però lui balla bene no io no sa fare un ballo bene fa un movimento che fa anche in teatro che mi sorprende faglielo vedere no no mi c'ho un ginocchio anche io no 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 vediamo ballare Franza che è più divertente Franza vediamo col qui dai allora la domanda la faccio a Franza la fai a Franza direttamente io ti chiedo posso aiutare in caso non puoi aiutare volendo sì allora potete anche consultarvi con gli affetti stabili se vuoi un aiuto per favore sì l'esperta su tutto è Monica si è tuttora ti sta ingannando sappilo oggi San Faustino come diceva prima giustamente Serena considerato il protettore dei single ma io vi chiedo per quale motivo non lanciatevi ci sono quattro opzioni guardate nello schermo perché San Faustino è considerato il protettore dei single io se vuoi guardo ma quello schermo devi metterlo qua no no c'è quello grande lì in fondo ma anche quello grande lo devi accettare ma quello grande c'è in mezzo al brazo c'è la giraffa c'è un macchinario non so vogliamo spostare il televisore no ma le legge lui no perché leggo io Franza io vi aiuto se vuoi Stefano se vuoi fare allora guarda sei staccato sei staccato che disastro Franza ascoltami perché San Faustino è considerato protettore dei single una di queste quattro ragioni perché non si è mai sposato e questo è molto logico oppure semplicemente perché si celebra il giorno dopo San Valentino perché andava a ballare nella discoteca dove andavate voi di noi prima oppure perché aiutò un soldato a trovare moglie oppure aveva solo discepoli scapoli secondo me è la terza quella del soldato sì Ale cosa dici? bravo bravo la regia ha spiegato che è spiegato allora chi ha scritto questa qui è una persona perfida sono io grazie un soldato una storia strappa lacrime esatto per poi celare una menzogna no allora io a questo punto interpellerei anche la Morlacchi che è l'esperta di tutto Jessica secondo te bravo sì sì no 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 ma quella sbagliata la Morlacchi mi diceva sì sì è quella è quella mi continuava lei porta sempre allora qui dobbiamo trovare quella giusta vabbè ci penso io ci aveva i fratelli solo i cognati che ci aveva discepoli 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 ma se prima Serena rideva su questa opzione giustamente allora adesso toccare sono finite le risposte sono finite le risposte ne hai solo due certo certo io dico la seconda secondo te si celebra il giorno dopo San Valentino bravo si vede che seguiva sempre la risposta un po' più meno cioè fammi capire è il patrono perché è il giorno dopo San Valentino solo per questo l'hanno scelto lui non aveva assolutamente idea ovviamente niente a che fare nella sua vita sei deluso la sua biografia non gliela dovevi dare questa notizia lui mi si è entristito e quindi Santo Stefano che è il giorno dopo Natale perché? ebbe quello perché il primo martire quello sia lì c'è un senso qui no hai visto? però adesso tutti deliberati bravo Ale Franz devi studiare Jessica dopo la Befana il 7 cosa c'è? il 7 gennaio cosa c'è? addio questo non lo so adesso non ho tutto il calendario in testa allora andiamo a vedere il gennaio ci sarà qualcosa c'è la Befana maestro cosa c'è dopo la Befana? San Memo andiamo a vedere lei è una virgina tra la Virginia Faele e la Belen Rodriguez è vero? ma non mi dirai così ma hai visto? hai visto? è un complimento non me lo dire guarda che mi metto subito Madonna brava che sei la numero 1 numero 1 sei bravissima San Raimondo il 7 ci dicono San Raimondo il 7 gennaio ti sei la Befana che non era però Mondain no assolutamente dai su vabbè mi sto perdendo vogliamo far uscire tutto sta baradana dai dai facciamo uscire tutto un po' così artigianale comunque io ho rotto il telefono in tutto questo ma piante non so vogliamo una brecce ti diverti e poi ti ritorna la mente adesso io ho tutti i dati le passi come faccio era solo per dire che possiamo fare per aiutarti? ormai è andata perché in realtà poi a me interessa molto questa vostra metafora della panchina perché voi diciamo la panchina è oramai diventato il vostro una specie di suggello della vostra comicità giusto? un po' sì perché nasceva come? no uno dei due era seduto e si avvicinava l'altro a chiacchierare assolutamente certo uno che apparentemente si era preso un momento suo di intimità è rotto immediatamente dall'arrivo dell'altro insomma questo è quello che succede poi veramente nella vita nel senso quando uno magari non ha voglia si mette lì tranquillo e arriva qualcuno accanto però nella vita diciamo lui sta pensando al telefono adesso perché lo vedo lo ha sguardo perso mi guardavo mi guardo e non mi riconosco allora e come mai? vuoi che mi sdraio e analizziamo il tutto? e poi se potrebbe essere il tutto qua succede sempre mi guardo ma sembra proprio un'altra vita come eravamo proprio guarda come siamo diversi lì beh insomma lui è sempre uguale Valerio ti ringrazio ti ringrazio per la per la delicatezza che è molto grazie e grazie i capelli bianchi ce li ha rosa lui in realtà successe una cosa dopo diciamo quelli che è il calcio lo vediamo questa foresta tropicale situata tra la Cina e il Sudan è uno dei posti più pericolosi del mondo Dave Comasina colonnello per 20 anni nella regione straniera esperto di tattiche militari e campione di risico e codigo visa specializzato in tecniche primitive intimissimo conoscitore degli animali seguito dai servizi sociali si capisce ne ha bisogno dimostrare che perdersi in questa foresta non vuol dire andare incontro a morte certa ce la faranno Dave e Cody dispongono solo di uno zainetto con dentro oggetti che un turista qualsiasi potrebbe avere con sé vediamo cosa c'è qui dentro cosa c'è il cubo di Rubio questo è un f***ato cubo magico fantastico questo è utilissimo cioè perché in posti tremendi infernali come questi la noia ti può spappolare il cervello perdizione ma questo è è il manico di un coltello ma non è il manico è un coltello svizzone manca la lama ma no è dentro devi girarla non ci serve no è l'unica cosa utile vediamo vai ce la faranno a sopravvivere gli insopravvissuti va bene adoro e so che in quella circostanza ti scrissero perché tu eri dimagrito giusto? si 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 quanti giri? e beh ma il problema sai qual è stato? è stato che continuavano a mandare appunto repliche di robe vecchie io nel frattempo era un po' di tempo che non andavamo in televisione io ho preso ho perso 30 kg ma li ho persi tre anni tre anni e mezzo quindi la gente continuava a vedere repliche mi vedeva il giorno dopo fuori di casa ma io mi dicevo ma stai male? no ma non sto male guarda che è passato tempo da quel che hai visto ieri cioè nel senso cioè sto meglio di prima anzi non bene certo non so perché ho guardato scanno perché stavo parlando di dieta ieri forse perché devo perdere 30 kg pure io oh la madonna io lì anche nei bulbi oculari ce l'ho ce l'ho il grasso no ma mi sapeva non ridere troppo ti sento male i bulbi ti hanno fatto ridere i bulbi oculari se no io rido quando comincio a ridere veramente c'è un sottotesto c'è un sottotesto non riesce sì sì no vabbè poi stasera mi chiama e insomma va bene però sappiamo che il compagno Mezzancella qui accanto ci vuole dedicare una canzone allora ieri questo signore ci ha dedicato la canzone della canzone degli innamorati sì siccome oggi è San Faustino ci dedichi la canzone di quelli che stanno da soli nei singoli tu in quale chiave ti riconosci di più? no io sono di là sono accoppiato a posto tranquillo quindi di spirito sei più sulla coppia sì 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 assolutamente ovvio so che hai una bellissima compagna peraltro nascerà Aurora tra un mese e mezzo grazie bravo chi sa che voce avrà te lo domandi già non che faccia avrà ma che voce avrà che voce avrà ne avrà diverse però la canzone per tutti i single è questa Marco se n'è andato e non ritorna più di sere nere che fai rumore qui e non lo sa se mi fa bene se non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma e adesso andate via voglio restare solo ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo ricominciamo noooo allora ma pensa la sua bambina a scuola che sentirà delle canzoni e dirà è mio papà poi sentirà è mio papà perché non uscirà a distinguere e invece quando sentirà Ramazzotti Fagli capire che non sei tu Perché quello parla come papà Soprattutto perché non hai il conto in banca di papà Papà potresti comprarmi tutto E invece no Farà fatica a capire Invece tornando Voi siete da stasera Fino al 25 Da domani sera Da domani sera Al Teatro Paroi di Roma E volevo tornare in conclusione su questa metafora della panchina Perché per me è una metafora Invece molto bella Perché è la capacità di ascolto dell'altro E' vero Ti aspetti una risposta intelligente? Mi aspetto che voi ricominciate a fare la panchina Ah ok Buongiorno Fa caldino Fa abbastanza caldo Lei doveva Dove è andato in vacanza l'anno scorso? L'anno scorso sono andato alle Maldive Al mare? No nell'introterra sono andato A me piace la campagna Sono stato lì un mese e mezzo a funghi e fagiani Sono andato in un'isola di 30 metri quadri Sono stato al centro Nel entroterra Nel entroterra Sì perché Sono le castagne anche Sì anche le castagne Certo Nevica Il tartufo è famoso Andato con l'aereo? No ho preso l'aliscaffo ad Ancona Ho preso Beh è bello Poi cosa ha fatto Ancona Poi cosa ha fatto il canale di Suarez Sì certo La Lomellina Cerveteri Cerveteri Poi ho preso la Milano Sydney Sono uscito alla quarta E sono arrivato Un bel viaggio Ma scusate ma con cosa vuole che sia andato Ho preso l'aereo da Milano Abito a Milano Era ad Ancona perché è stato rientrato Perché appunto le stavo dicendo Che abito a Milano Ho preso l'aereo da Milano Ha fatto bene Anche perché in Pullman Alle Maldive non arrivava più Fa troppe fermate in Sri Lanka E se l'aereo è comodo Sì è comodo Un attimo parti Lei quanto ci ha messo andare alle Maldive No Guardi per curiosità Lo dica lei Voglio proprio sentire Secondo lei quanto ci ho messo Dieci minuti No ne ha otto Sì non ho finito i cracker a bordo Veramente Andato con la L'Italia No con le frecce tricolore C'era un'offerta sui cazzo Ho preso la linea verde Vedi ci basta un secondo Ormai abbiamo così tante cose nella te E per chiudere Grandissimi Grazie Grazie per avere il dono di farci ridere Ve lo dico no Grazie per ridere Sei una delle poche donne che ce l'ha detto Grazie Grazie per ridere Sapete com'era una metafora Un'aforisma che vi Non mi ricordo di chi era Ma è molto giusto Per conquistare una donna La prima regola è farla ridere La seconda è non farla ridere troppo Bella E soprattutto E soprattutto farla ridere al momento giusto Questo è il sottotesto Venite con me Andiamo Cambiamo Dulcis in fundo Nuovo mito Memo Renigi So che voi nella vita Non aspettavate altro Non aspettavamo altro Sì È vero Ma l'avete mai conosciuto Memo? Come no Sì Sì Allora cosa cantiamo maestro? Quello che volete voi No voglio sapere prima cosa avete combinato insieme con Memo Renigi Abbiamo cantato Abbiamo cantato Abbiamo cantato Abbiamo cantato Abbiamo cantato Abbiamo ballato Nelle varie discoteche Da single Col ballo da single di Peronna Certo E la vita, la vita, è la vita l'estrana, l'estrana, basta una persona, persona, che si monta la testa, è finita la festa. E la vita, la vita, è la vita l'è bella, l'è bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa, sembra un giorno di festa, sembra un giorno di festa. Ciao a tutti! Viva, è franzo, è buon letto, tutti a te Anna, buongiorno, 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 guardate quando potete, qui troverete sempre una panchina, un divano, una morlacchi, un pelone pronti ad accogliervi. Sempre pronta Malone! Grazie, grazie!